Benvenuti al centro di notizie e gossip. Prima di entrare nelle novità del giorno, un mi piace e la vostra iscrizione al canale sono per noi segni immensi di apprezzamento. Grazie di cuore. Recentemente, Giorgia Meloni, la nostra presidente del Consiglio, è stata al centro di una conferenza stampa piuttosto intensa. Il focus era sul caso di Emanuele Pozzolo, un membro del partito Fratelli d'Italia, che durante i festeggiamenti di Capodanno è stato coinvolto in un incidente piuttosto grave con una pistola, che ha portato al ferimento accidentale di una persona. Meloni ha affrontato la situazione con la gravità che merita. Pozzolo, che deteneva legalmente l'arma, ha evidentemente trascurato un dovere fondamentale, la responsabilità di gestire un'arma da fuoco con estrema cautela. Questa negligenza solleva questioni ben oltre la sua persona, influenzando la sua posizione come parlamentare e rappresentante del partito. Di fronte a questi fatti, Meloni ha preso una decisione ferma. Ha annunciato che Pozzolo sarà sottoposto a un esame approfondito dalla Commissione Garanzie del Partito e sarà sospeso in attesa dei risultati delle indagini. Questo non è solo un gesto simbolico, ma una chiara dichiarazione che la responsabilità non è un optional, soprattutto per chi ha un ruolo di leadership. Chiudendo il suo intervento, ha sottolineato il peso della responsabilità che tutti i membri del partito devono condividere, specialmente in momenti critici come questo. Meloni ha anche ribadito l'importanza di mantenere una leadership flessibile ma ferma, sempre guidata da serietà e integrità.